Le imprese sarde non sfruttano le agevolazioni e quanto emerge da una ricerca elaborata alla CNA Sardegna che ha analizzato le diverse forme di agevolazioni previste per le imprese a livello nazionale e regionale. Entrando nel dettaglio della ricerca, dal 2010 ad oggi i contratti in rete hanno coinvolto poco meno di 600 imprese, 4 aziende su 1000 attive, un dato inferiore alla media nazionale. Solo 3 progetti attivati con i contratti di sviluppo che hanno attivato investimenti per circa 135 milioni. Dalla ricerca della CNA emerge che sono solo 11 le start-up attivate dal 2014 grazie alle agevolazioni Smart & Start. La Sardegna è al quinto posto tra le regioni del sud e il tredicesimo a livello nazionale. Sono solo 21 mutui a tasso zero per i giovani imprenditori sardi, un tasso di accettazione del 15% contro il 17,7% a livello nazionale. La legge Sabattini invece ha finanziato solo 90 milioni pari allo 0,7% del totale nazionale che è di 13 miliardi. Le piccole e medie imprese sarde che hanno avuto accesso nel 2017 al fondo di garanzia sono circa 20 ogni mille contro le 23 della media nazionale. È un quadro in chiaro scuro quello dipinto dalla CNA Sardegna. Nonostante la penuria di liquidità e la difficoltà di accesso al credito, le imprese sarde hanno beneficiato in maniera molto marginale delle agevolazioni esistenti. Hanno rilevato Pierpaolo Piras e Francesco Polcu, presidente e segretario regionale della CNA Sardegna. Il sostegno al sistema produttivo in questi anni, pensati e tarati sui bisogni delle imprese più grandi, in assenza di elementi di riequilibrio tra i diversi segmenti di imprese e le diverse aree del Paese, hanno visto la tipologia di imprese più strutturate e le aree più ricche del Paese assorbire quasi per intero le risorse messe a disposizione dallo Stato. Grazie a tutti.